Io credo che di essere debitore di scuse a chi seguendo queste trasmissioni si aspettava da un mio precedente intervento che parlassi di velioli e delle cose che in genere appassionano quest'uditorio che so essere molto vasto ecco invece ho parlato della tragedia di uschia chiedo scusa quindi a chi è rimasto deluso però vorrei anche dire che davo per scontate naturalmente delle contumelie delle reazioni scomposte delle volte anche grossolane e soprattutto di chi ha dato voce a delle proprie convinzioni senza conoscere le cose senza conoscere ciò che ha contraddistinto questa questa tragedia italiana l'obiettivo dal mio punto di vista l'ho raggiunto anche se parzialmente perché di fronte a un imbroglio così colossale perpetrato a danni del cittadino ritengo il mio dovere e riterrò anche in futuro fino a che mi sarà consentito di dire gridare la verità anche se questo dovrà comportare delle reazioni scomposte di quelle di cui ho parlato so che molte persone hanno molti di voi insomma hanno hanno visto questo filmato e so però che ci sono state anche molte legittime domande perplessità questioni che sono meritevoli di una risposta ecco proprio per questo nella nostra associazione forse della disponibilità di tutti ad avere un atteggiamento del tipo che io ho pronunciato come mio personale daremo risposta a tutti questi quesiti quindi io ringrazio chi ha voluto manifestare dei dubbi delle perplessità e naturalmente le raccoglieremo tutte e risponderemo risponderemo cercando di essere convincenti non lo sono stato io allora prenderemo delle persone che mi auspico siano più convincenti di quanto abbia potuto essere io e quindi approfondimento tecnico oppure di carattere giuridico di carattere storico di carattere sociale tutto quanto avrete una risposta nei prossimi giorni e quindi vi posso già annunciare che abbiamo stiamo mettendo a punto questi quesiti stiamo preparando le risposte avrete tutte le risposte che meritate ecco sperando di riuscire a convincervi a convincere voi a convincere tutti che la storia diustica non finisce qui che deve avere un seguito sia nella percezione e quindi per correggere una cronaca totalmente mistificata e quindi essere archiviata nella storia come una verità e non certo come delle verità fasulle totalmente inventate appunto quelle che fanno capo alla battaglia aerea e auspicabilmente anche per convincere la magistratura che ci sono 81 persone diciamo che ancora sono in attesa di conoscere la verità 81 vittime rimaste senza responsabili una tragedia che va archiviata certamente come un fatto avvenuto per determinate cause e che possibilmente possa anche esserci un'idea di chi ha la responsabilità di questa tragedia Grazie 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 Grazie